Siamo con Alessandro De Ioannan, che da sei anni è il fisioterapista della Becquery Basket Piacenza. Cosa vuol dire intanto fare fisioterapista per una società sportiva? Cosa fai a conto i fatti? Fare fisioterapista per una società sportiva vuol dire cercare, nei limiti del possibile, di tenere i giocatori in forma ideale per svolgere allenamenti e partite. Questo comprende dei trattamenti più banali, che possono essere massaggi di scarico, a trattamenti più complessi, quali l'utilizzo di macchinari che utilizziamo in studio, ocole spesso, ma che sono molto importanti, soprattutto per la psiche del giocatore. Quindi il compito più o meno è questo, cercare di tenerli in forma. È un lavoro che va fatto in stretta correlazione con tutto lo staff, medico e tecnico, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione dell'infortunio, che con il nostro comparatore Marco Merli è un aspetto di cui teniamo molto conto. Deve esserci una buona sinergia fra tutti per poter curare al meglio il giocatore in caso di difficoltà. Ecco, in che modo cambia questo lavoro tra farlo con atleti semiprofessionisti, come sono quelli della bakery, e invece con persone, diciamo, normali, come fai verso la tua palestra? Se parliamo di questo aspetto è difficile, nel senso che con i giocatori si ha praticamente la metà del tempo, se non a volte un terzo del tempo. Bisogna fare quello che normalmente si fa in dieci giorni, in cinque, perché bisogna avere l'atleta sempre disponibile, ovviamente rispettando i tempi biologici. e purtroppo ci sono degli infortuni gravi che non possono essere accorciati, però diciamo che la grossa differenza è quella, bisogna fare tutto più in fretta e spesso è difficile.